e giù il gettone via che si va ben tornati sulle frequenze di GDR Unplugged l'altro modo di giocare di ruolo io sono il vostro Marco Mr. Mac Andretto e devo leggere sotto cosa ho scritto per potermelo ricordare sarà sintomo di vecchiaia? non lo so ma quello che so è che GDR Unplugged è l'altro modo di giocare di ruolo qui non si gioca a D&D ma proviamo sempre giochi strani e divertenti e che probabilmente non conoscete e se li conoscete vedete con noi come li proviamo e cosa ne viene se non li conoscete conosceteli insieme a noi a proposito di noi insieme a me oggi per provare questo gioco c'è il nostro prode Nicola Vagliente professionista giocatore di ruolo ciao Nicola ciao a tutti ciao Marco ciao a tutti quelli che ci stanno guardando naturalmente ricordatevi di sostenerci resciarando i nostri video consigliandoli ai vostri amici e se vi piace quello che facciamo veramente tanto vi consiglio di dare un'occhiata al nostro sito gdrunplugged.it dove trovate tutte le informazioni per sostenerci con la nostra pagina patro o abbonandovi al nostro canale twitch dove facciamo le live praticamente ogni settimana e dove potete intervenire a proposito volevo andare live anche oggi pomeriggio e me ne sono scordato vabbè questa sarà l'ultima volta probabilmente che non andiamo live per cui godetevela a proposito l'ultima cosa noi facciamo questi video perché c'è qualcuno che ci sostiene se stai guardando questo video e non ci stai sostenendo su patreon o su con twitch sappi che è il momento giusto per farlo perché qualcun altro lo sta facendo al posto tuo in questo momento noi ci mettiamo il cuore tu aiutaci a provare sempre giochi di ruolo e a diffondere il verbo ora che mi sono sentito un po' papa possiamo andare a presentare il gioco di questa sera ma non prima di averti chiesto nicola se tu hai giocato a mars colony il gioco pubblicato da coyote anni fa un gioco per due giocatori in cui si interpreta la colonna marziana e il personaggio il salvatore che viene mandato a salvarla dalla crisi l'hai provato? no ah ti manca una risposta che si può fare a molti giochi che tu mi hai chiesto hai provato questo gioco e la mia risposta è sempre no ma bene in questo caso uguale perché tu rappresenti il giocatore di ruolo che viene sorpreso dai giochi che presentiamo e sei un ruolo, sei perfettamente integrato nel ruolo che ti abbiamo donato con tanto amore a proposito Natale si avvicina ricordatevi di noi allora non c'è problema perché? perché il gioco che andiamo a provare oggi in questa puntata è 39 Dark, 39 Dark che è da una parte il seguito di Mars Colony nel senso che è possibile giocarli uno dietro l'altro se in Mars Colony, gioco pubblicato in italiano, a proposito gioco di Team C Coppang gioco che viene pubblicato, che è stato pubblicato in italiano da Coyote si giocava questo salvatore che cercava di salvare la colonia marziana dalla crisi in questo gioco si gioca la fase successiva e cioè la colonia marziana si è, tra virgolette, salvata ma i marziani sono un po' stufi di sottostare al gioco benevolo, malevolo, ma comunque gioco del consiglio terrestre della terra, degli stati della terra e quindi una fazione, la 39 Dark cerca di cambiare le cose su questa colonia quindi si possono giocare uno dietro l'altro oppure giocare semplicemente questo partendo dal presupposto che c'è una situazione e questa fazione vuole cambiare le cose c'è un clima di rivolta siamo ancora nel mese per l'ultima volta visto che questo video vi era pubblicato il 30 novembre 2020 siamo ancora nel novembre Revolution e quindi volevamo omaggiare questo mese tematizzato in questo modo con questo gioco che parla di rivoluzione adesso ti faccio la domanda ti faccio la domanda diritto perché bisogna vedo che siamo in due è un gioco strettamente per due giocatori? allora, bravo faccio lo scheletro del gioco come ogni bravo divulgatore allora, è un gioco strettamente per due giocatori come lo era Mars Colony anche questo è un gioco per due giocatori un giocatore interpreterà la colonia diciamo e un giocatore interpreterà il salvatore che è colui, the savior che dovrà cambiare le cose cercherà di cambiare le cose come Mars Colony è un gioco che unisce una forte componente da board game con una componente di meccaniche di rischio a delle scene costruite attraverso queste meccaniche che vedranno l'evolversi della storia e della situazione in un modo o nell'altro sappi che c'è la possibilità che il salvatore fallisca rischiando attraverso le meccaniche e le risorse a sua disposizione e quindi non riesca effettivamente a cambiare le cose ma di tutto a rotoli è un gioco che ha una forte componente ludica ma dal punto di vista del giocattoloso se lo chiamiamolo noi come l'abbiamo battezzata noi su GDR Unplugged è una forte componente giocattolosa di rischio e di scommessa che si integra ma vedremo poi con la parte ruolistica ok? tra l'altro le informazioni potrebbero servirvi è un gioco di circa 100 parti si trova solo in inglese lo trovate qui nella descrizione metterò il link lo trovate sui maggiori siti di vendita di giochi di ruolo e in digitale anche ok? all'estero ma direi di immergerci immediatamente nel gioco dopo questi primi minuti di presentazione ok? a proposito pensavo che me lo chiedessi ma non era quella la domanda oggi non c'è né Filippo né Iosef né Roberto perché sono inferi i maledetti hanno usato come scusa abbiamo un covid leggero stiamo non ci siamo per questa puntata ma mi sento anche di non credere loro ok? un po' così comunque se la scusa era quella mi sento anch'io di non credere tu sei il volontario che si è offerto quasi volontariamente per questa puntata per cui ti sfrutterò assolutamente vai allora quello che devi sapere inizialmente scusa quello che devi sapere inizialmente è che questa colonia si trova su Marte è stata fondata anni addietro dai dai terrestri dal dal popolo terrestre che è si è in parte spostato cercando di colonizzare Marte creando questo bioma questa biosfera in cui si è sviluppata questa civiltà tra virgolette questa questa comuna chiamiamola un po' così anche se non è propriamente il termine comunque sotto una cupola si sono strutturati in cinque distretti e ogni distretto ha un rappresentante all'interno del consiglio che tira le redini tira le fila della vita cittadina ok di questa colonia il salvatore il personaggio principale della nostra storia si chiama Lane Novak è volutamente lasciato a un nome che può essere sia maschile che femminile quindi è lasciato al giocatore che interpreterà questo personaggio decidere se è maschio o femmina di base si sa che lui è o lei questo personaggio è marziano di origine marziana ok quindi indigeno della colonia ed era già dentro al governo quindi fa parte comunque della vita politica della colonia e però fa parte anche del movimento 39 Dark ah dimenticavo prima curiosità il gioco si chiama 39 Dark perché il giorno il giorno marziano è più lungo di quello terrestre di 39 minuti e 35 secondi per cui 39 Dark e allora dicevo fa parte dei 39 Dark che è questo momento questo movimento conosciuto che vuole cambiare le cose perché i marziani sono un po' stufi di essere sotto il gioco terrestre quindi c'è questo clima di rivoluzione che può essere pacifico o meno lo vedremo in gioco di rivoluzione delle cose dello status quo e basta non c'è altro da sapere tutte le altre cose le creeremo durante la creazione della scheda del personaggio ah dimenticavo prima ma lo faccio ora c'è una scheda di gioco la scheda di gioco te la passo in mantenente eccola qua nella nostra chat ah no scusa devo fare la condivisione chi sono io chi cambia chiunque abbia il link può editare ok copia il link te la passo nella nostra chat privata così potrai avere l'eccesso alle schede e modificarle oltre a queste ti passo anche il nostro fido tiradadi copia tiradadi non è ok io te lo passo comunque per completezza se volete provare il gioco e comprate il manuale fateci sapere se avete bisogno delle schede online possiamo passarvi le nostre possiamo passarvi i materiali che usiamo se possiamo ve li passiamo senza problemi ok allora dicevo la prima cosa da fare quando si va a giocare è intanto decidere chi farà il governo the governant si chiama un giocatore e l'altro the savior il salvatore per comodità direi che siccome the governant è quello che muove il mondo i png e più o meno fa da contraltare il personaggio principale ti direi io faccio il governant e ti lascio fare il ruolo del savior del salvatore ok sono molto d'accordo benissimo mi piace quando la gente è d'accordo con me allora l'obiettivo il manuale dichiara che l'obiettivo dei giocatori è quello di creare una storia densa di significato su come Lane Novak questo personaggio principale cerca di cambiare la colonia ok io vado a mostrare a video le schede di gioco dovrebbero vedersi vediamo se ho ragione ah si ok ho ragione allora tu hai questa scheda che la pagina 2 c'è la scheda del tuo personaggio infatti c'è il nome del personaggio in alto a sinistra e ci sono tre grandi cerchi centrali una timeline in alto e varie altre cose da riempire la prima cosa da fare è mettere nove token su loyal il cerchione la zona centrale della scheda cosa sono questi token ti dicevo prima mentre tu vai a piazzare i token se ce la fai altrimenti ti da una mano metti pure quello che preferisci delle forme cerchio delle forme quadrato quello che preferisci o delle lettere il questi token che serveranno perché durante il gioco si sposteranno o sulle sui punteggi di guadagnerai sui punteggi dedicati alla hope alla change al total eccetera eccetera delle varie agenda che ti farai e quindi cercando di risolvere i problemi cercando di cambiare il mondo oppure andranno su op o tradimento ok che saranno invece le zone in cui queste zone indicheranno quanto stai tradendo la fede la fiducia che hanno in te i cittadini di questa colonia oppure quanto hanno speranza in te nonostante le cose nonostante tu nasconda qualcosa più avanti ti spiegherò meglio come funziona questa meccanica sappi che tu avrai nove tentativi di cambiare le cose di risolvere le cose su marte e se raggiungerai cinque token o più su tradimento tre trezonos tu fallirai ok ok il quinto segnalino su trezonos tu fallirai finito il gioco esatto il gioco finisce in due casi o sulla timeline avrai raggiunto il nove oppure da nove l'avrai esaurito lo stabiliremo poi oppure cinque segnalini su trezonos ok perfetto una volta deciso chi gioca chi il il giocatore di Novak fa descrive una vignetta una breve scena semplicemente descrittiva su che mostri il suo personaggio che mostri un attimo che tipo di persona è e il e il suo comportamento ok e come è legato alla 39 dark e come è legato al governo ok per esempio tu potresti mostrarlo mentre è intento a compilare un sacco di scartoffi alla fantotti faccio un esempio stupido oppure sta parlando alle foglie tipo trump o berlusconi oppure magari sta girando per le strade tipo gandhi ad aiutare la gente povera ok tu hai già un'idea di come vorresti il tuo personaggio la cosa più semplice è giocare play dumb e cercare di immaginarti cosa faresti tu al posto del personaggio e andare in quella direzione hai già un'idea di lei nova se è maschio o femmina e che tipo di personaggio potrà essere allora lo facciamo maschio e lo facciamo e lo facciamo allora tu hai detto che io devo essere sia membro del governo ma anche membro di questa società rivoluzionaria che vuole cambiare Marte esatto tieni presente che la 39 dark questa questo movimento rivoluzionario può essere tutto o niente cosa vuol dire può essere sia un gruppo di guerriglieri che vuole cambiare a suon di bombe e carta che anche un un gruppo di hacker che un un movimento pacifico che facciamo se si ho capito dai facciamo una cosa un po' come si dice contemporanea ok facciamo un movimento ambientalista ah mi piace ok e praticamente Lenovac lo si vede è detto che dobbiamo fare una vignetta no lo si vede come se lo vedessi in un fumetto fuori dal fuori dal palazzo del governo a parlare alla gente in una manifestazione per come dire per riportare Marte allo stato naturale delle cose ok mi piace alla Greta Thunberg ok domanda se dovessi dare due tre dettagli del personaggio mentre viene inquadrato come lo vedi in giacca e cravatta o molto sciallo ha qualcosa del suo vestiario o del del suo comportamento che lo contraddistingue allora è in giacca e cravatta perché comunque lui fa parte del governo quindi mantiene come dire un certo dress code è a suo agio in giacca e cravatta sì lo si vede lo si vede abbastanza a suo agio a parlare alla folla anche cioè non è non è nel posto sbagliato cioè non si sente nel posto sbagliato sa benissimo dov'è è sulla direi quarantina ok però ha dei capelli lunghi e barba lunga completamente bianchi ah ok probabilmente lo stress ah 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 ok e cos'altro fammi pensare no basta ok se hai una domanda dimmi pure il viso com'è cioè è di una persona che sa come conquistare le foglie una persona sincera una persona magari ha un rivolo di sudore che gli scende dalla sulla tempia ha qualcosa che contraddistingue anche il il suo stato mentale in questo momento allora ha delle occhiaie molto accentuate ok perché appunto lavora di giorno e di notte sta su a pensare a come salvare il pianeta ok mi piace questa cosa allora fermiamoci qua gli spazi bianchi verranno riempiti giocando e quelli che non verranno riempiti vorrà dire che non saranno importanti per la giocata allora la seconda cosa da fare sono le hunger cards dobbiamo definire tre cose a testa sia io che te tre cose che ci danno fastidio che ci preoccupano del mondo ok potrebbe le abbiamo nella scheda allora non vanno inserite nella scheda se fossimo al tavolo metteremmo tre post-it tra noi ho pensato di sostituire questa meccanica normalmente ne metteremmo tre a testa i primi due vengono scoperti subito e messi sul tavolo in modo che tutti i due giocatori sia io che te possiamo guardarli gli altri restano coperti restano coperti finché nel gioco entrambi i giocatori pensano che gli argomenti già scoperti siano stati esplorati e possono essere scoperti per dare spazio a nuovi temi da portare in gioco noi siccome non è una meccanica così stringente per il gioco pensavo di sostituirla semplicemente con ne scriviamo sei a testa io me li scriverò anche i tuoi qua e tu scriveti da qualche parte e piano piano li portiamo in gioco mettiamo in lista e li portiamo in gioco se ne abbiamo bisogno ok ok allora questi se vuoi li scrivo sul fatto bianco della scheda perfetto scrivili pure lì non saranno inquadrati a video perché inquadro solo la scheda ma va bene nemmeno li teniamo come promemoria allora ti comincio io e così ti do anche un esempio una cosa che mi dà fastidio è la differenza sociale dettata dal dal potere economico delle persone ok queste sono cose che ci sono su Marte in questo momento allora no queste sono cose che noi giocatori abbiamo a cuore servono mentre tu ci pensi io dedico un attimo a quelli a casa servono perché perché poi se queste tematiche toccano i giocatori sarà più facile sentirle bliddarle nel gioco cioè poi magari non ci sarà veramente una divisione capitalistica su Marte però sarà più facile per me per esempio dire per esempio se tu giochi se tu giocassi il governo tu potresti mettere una scena in cui ah c'è una povera bambina che vende fiammiferi a un angolo della strada e sta morendo di freddo capisci che è un argomento che mi tocca ok certo certo allora io ti metto la la crescente diffidenza nella scienza e nei fatti ah ok ok ne aggiungo ne aggiungiamo un altro paio a testa non penso che ne serviranno sei un altro paio a testa io aggiungo la misantropia io aggiungo la disuguaglianza di diritti dovuti a differenze di razza genere eccetera ok noi cominceremo tenendo usando i primi due e poi man mano che avremo bisogno potremo anche usare gli altri aggiungiamo ok a questo punto passiamo usiamo la scheda sulla pagina numero 4 qui dovremo mettere quattro gruppi quattro correnti quattro pensieri estremisti che esistono veramente ok ne metteremo ne metteremo una in ognun rettangolo in questa scheda e non ci saranno non ci saranno uno a uno pari nel mondo di gioco ma serviranno come spunto per creare le fazioni che ci sono nel mondo di gioco ti faccio un esempio stupido se in alto a sinistra metto gli estremisti musulmani in alto a destra metto greta thunberg steel che è nel mezzo sarà una fazione che difende la territorialità della sua zona con atteggiamenti estremamente rivolti all'ecologia e con quelle caratteristiche azioni che sono tipiche o di greta thunberg o degli estremisti o degli estremisti misurabici ma cose anche molto più terra terra cioè tu puoi mettermi la lega i berlusconi oppure i 5 stelle la dc oppure la sinistra e conte che cavolo ne so insomma movimenti però movimenti di pensieri gruppi che esistono veramente e non devono essere opposti come dice nel senso non è che in base al punto in cui in alto a sinistra deve essere opposto al basso a destra no l'unica cosa è che quello in alto a sinistra naturalmente non sarà mai immediato non farà mai gruppo con quello in basso a destra ok solo quello non è che debba esserci possono essere tutti i 4 dello stesso genere ma con piccole differenze esatto allora se non ti spiace io butto lì il primo e penso di fregarti perché è una cosa che mi ha ispirato dicendo l'ecologista secondo me c'è effettivamente il movimento che ha portato avanti come rappresentante Greta Thunberg e direi di metterlo come nome French Group Greta Thunberg tu sai come si scrive Greta Thunberg adesso lo cerco per sicurezza si dovrebbe averlo scritto giusto ok togli pure il gruppo che va a sovrapporsi a agenda e metodologi ah ok bene l'hai spostato bravissimo allora ci sarebbero anche da mettere l'agenda e la metodologia cosa vuol dire l'agenda è cercare di salvare il mondo dall'inquinamento rendere un mondo migliore la metodologia è andare a parlare alle tv andare a parlare coi governi muoversi in prima persona per sostenere le proprie pensiero salvare il mondo dall'inquinamento punto e virgola e poi mettiamo adesso aspetta devo rimpicciolire la dimensione io intanto copio quelli che abbiamo già fatto che così poi li portiamo dall'altra parte e la metodologia hai detto parlare ai governi parlare ai media e coinvolgere coinvolgere i giovani esatto possiamo rimpicciolire anche questo e farlo 12 adesso che li ho copiati tutti non è un problema rimpicciolisco ok bellissimo e tu calma adesso mettene uno dici esatto allora io metto cosa voglio mettere io metto beh visto che abbiamo il cos'è che avevo detto l'infidenza nella scienza infatti metto il movimento no vax oh bene mi piace cioè non mi piace il no vax mi piace che tu abbia scelto così d'emblè un qualcosa che mi ha colpito e sono indeciso ma si mettiamolo anche in congiunzione con Greta tu ma così allora l'agenda è qual è l'agenda del movimento no vax e beh allora l'agenda è quella di convincere le persone che che i vaccini non servono un cazzo va bene ma stavo pensando dal loro punto di vista convincere le persone che i vaccini non servono facciamo facciamo più ampia perché alla fine è un gruppo collegato a questo certo vai tranquillo ah no aspetta aspetta perché questo è il gruppo al cui noi ci prendiamo al cui noi ci ispiriamo e poi still sarà diverso esatto still sarà una mezza via tra i due allora prometto che la scienza non ci dice le cose l'unica cosa che no l'unica cosa una tra le tante cose che dice il manuale su questa creazione è che comunque questi movimenti che vengono citati devono essere conosciuti da chi fa il governant perché naturalmente poi dovrà muoverli in gioco certo beh li conosci immagino sì 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 infatti non ho problemi con questi e allora io direi che i metodi sono utilizzo dei social fake news e che altri metodi devo rifare a pensare teorie del complotto sì possono essere un buon ah la lobby dei petrolieri sì mentre tu stai finendo lì io ho deciso di inserire la lobby dei petrolieri che ha come agenda mantenere mantenere il potere in mano a pochi saggi tra virgolette potresti chiamarla anche gli illuminati potrebbe se esistessero gli illuminati potrei chiamarla gli illuminati cosa intende dire se esistessero va bene parliamo in un'altra puntata a proposito se ci guardate giovedì sera avremo una live su twitch in cui parleremo degli illuminati sono presente assolutamente allora pochi saggi come fanno questa cosa allora attraverso il denaro cioè con il denaro comprano cose con attraverso il denaro il denaro comprano cose e persone persone poi influenza influenzano i politici e direi che va bene due è buono così per l'ultima cosa hai in mente è interessante è che mi hai messo l'obbio di petrolieri se no avrei messo tipo il trampismo ma va bene è la stessa cosa vai anche molto più terra a terra puoi andare sulla lega puoi andare su qualsiasi cosa sì infatti è che non va bene ne so quanto tanto essendo una persona che non ascolta le notizie mettiamo la lega tieni presente che queste qua sono fonti di ispirazione cioè non stiamo facendo un trattato sui movimenti e sui gruppi ma stiamo un attimo decidendo quale cosa ci piacerebbe vedere in gioco allora mettiamo la lega e l'agenda è qual è l'agenda della lega no l'agenda è qualcosa collegata al tipo al nazionalismo quindi riportare in auge lui no senti in modo no tipo rincentrare il potere in mano ai non so ai piccoli gruppi non so come definire e no se no mettiamo qualcosa che ha a che fare con tipo l'indipendenza ah bello sì grazie l'indipendenza dal governo centrale la vecchia lega di una volta o la nuova lega di adesso perché non è che l'indipendenza dal governo centrale sembra quasi rivoluzionare parlando di lui e i metodi sono allora il primo te lo suggerisco io bullismo bullismo mediatico non rimetto fake news perché tanto è in mezzo a metà con il movimento Novavax quindi va bene sono in dubbio tra caos creare caos e divisioni e banderolismo allora io stavo pensando a come dire seminare di Zaniat nel senso sì caos e divisioni nel tra le parti tra il governo tra tutti cioè tra la gente e il governo tra il governo dentro di sé tra la gente dentro di sé divide e tipo va bene bello mi piace perché c'è ne mettiamo un'altra come pensare se ne hai altrimenti abbiamo già un sacco leader forte e carismatico può andare bene bello mi piace sì ok perfetto ora andiamo sulla scheda pagina 3 dove ci sono le organizzazioni e i png ok cosa fornisce questo gioco il gioco fornisce quattro nomi di organizzazioni sono i peacekeeper united workers of mars i news network corporation e i colony government che sono le quattro organizzazioni che ci sono in su questa colonia fondamentalmente quattro organizzazioni più grosse praticamente il governo della colonia che comprende anche il sindaco si occupa di fare le leggi ne fa parte anche una coalizione terrestre con le nazioni con rappresentanti delle nazioni terrestre che possono influenzare il governo dell'andamento della colonia il peacekeeper sono praticamente la polizia sono state proibite armi con proiettili e chiunque ne dovesse anche loro non ne hanno e chiunque ne dovesse essere trovato provvisto verrebbe incarcerato e punito ok comunque è la polizia praticamente polizia polizia militare la news network parla da sé ed è praticamente l'organo di diffusione delle informazioni sulla colonia stampata digitale tutto quanto audio video e united workers of mars è praticamente il grande come si dice la grande cgl la grande cgl di marte o cis le will eccetera eccetera il sindacato dei lavoratori di marte ok allora ci sono già dei nomi come puoi vedere per esempio nei united workers of mars abbiamo l'organizer il council member rep rappresentant penso che fosse rappresentante dei lavoratori sui coloni government abbiamo il presidente della coalizione il sindaco Yara Dias no Yara Dias membri del consiglio vari sul news network abbiamo il network chief ma anche il lead anchor che è il presentatore capo o quello che riporta le notizie e nei peacekeeper che è la polizia abbiamo il comandante in capo l'investigatore eccetera eccetera ora noi dovremmo decidere un png uno di ogni fazione uno di ogni organizzazione scusa a quale fazione appartiene noi abbiamo per ognuno dei png no ognuno dei png uno per organizzazione non tutti quanti ok ok gli altri li prenderemo dentro se ci servono e li agganceremo alle fazioni solo se ne avremo bisogno ok ok allora per esempio secondo me il il sindaco per cui il colony mayor Yara Dias secondo me appartiene alla gold che è una mezzavia tra la lega e la lobby dei petrolieri corretto ok che potrebbe essere una cosa tipo trump si ok vado a inserirlo quindi sotto riduco il carattere che è gigantesco ok e metto gold gold member è un gold member esatto della gold a questo punto scegli ne una tu o un png e assegnala una fazione allora secondo me possiamo prendere qualunque png no qualunque che sia il chief commander o il deputy chief cioè dipendentemente da chi vogliamo vedere fondamentalmente esattamente ok allora io voglio l'investigatore hadjek che fa parte che secondo me fa parte della steel quindi un misto greta tumber complottaro ah ok bene quindi è un ambientalista complottavo esatto allora l'investigatore e non impiccioliamo aspetta che cambio cambiamo colore così almeno si nota il gold lo faccio colore che così si nota ma la scritta solo o la si la scritta solo direi senza problemi ops ops va bene 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 ops facciamo solo la scritta ops no non ce la faccio a fare il quadro me lo fa mi va sopra faccio io grazie faccio io ma tu l'hai evidenziato maledetto vabbè uguale e che fai mi fotti allora restano united workers of workers of mars e news network e noi abbiamo messo gold e steel per il momento restano scarlet e midnight e midnight scarlet non ha proprio senso tipo il petroliere il petroliere ambientalista guarda te la faccio io il petroliere ambientalista e ti lascio l'altra che ti diverti allora l'altra è chiaramente Matteo Salvini allora il lead anchor praticamente il presentatore capo aspetta che la copio il lead anchor ne vaffanculo copia copia teo maier incolla ok eccolo qua teo maier è una mezza via tra greta thunberg e quello del monopoli l'omino del monopoli quindi scarlet ok te lo evidenzi io poi se vuoi intanto lo scrivo tu intanto decidi chi c'è dall'altra parte io dall'altra parte per il midnight penso che decido che vogliamo qualcuno di grosso grosso tipo no dai il council member Jiang Li ok quindi è un membro del consiglio esatto così possiamo attaccare rogna riscriviamo lì 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 allora a questo punto ci mancano due cose da fare sì due cose da fare prima di cominciare a giocare torniamo sulla tua scheda a pagina 2 sì allora la cosa da fare è intanto scegliere la tua fazione oh maledizione io ho una fazione tua fazione allora il manuale dice che la fazione di partenza e quindi il gioco la fiction potrà cambiare le carte in tavola e anche il tuo legame con la fazione può essere derivante da diverse motivazioni puoi essere con loro perché ci credevi perché ci credi ancora perché in parte ci credi perché sei costretto per vantaggi tuoi eccetera eccetera ok allora io penso che l'ho detto prima che era stupido questa fazione mi metterò nella scarlet persona con poca integrità subito beh può essere che tu fai parte di questa affezione perché sei stato condizionato dall'onda del momento ma poi ti accorgi che le due cose non possono stare assieme ma no perché potenzialmente se saresti già nel posto giusto per riuscire a cambiare il mondo capito bello mi piace hai le idee buone hai anche le possibilità economiche poi magari vuoi mantenere dipendere scrivi tu in che faccia scrivi tu scrivi io ok vai scrivi io lo copio direttamente dalla foto si ecco se sei messa si io intanto ho messo un coso che poi ci servirà bravo non sapevo se mettere sull'uno o sul nove e quindi l'ho messo su nove perché mi piace il countdown vabbè allora fatto questo le altre cose che ci mancano sono devi scegliere tre follower ok tra le persone che ci sono nell'organizzazione tu devi dirmi tre nomi di personaggi uno deve essere un tuo parente uno deve essere una persona che ami e che ti ama e una persona deve essere un fan qualcuno che ti ammira devono essere personaggi devono essere personaggi che ti dispiacerebbe perdere naturalmente qualcuno a cui le innova che è legato ok allora il primo deve essere un parente mi hai detto esatto allora come parente mettiamo adesso ti cerco un nome perché è impossibile che io vabbè vai tranquillo mettiamo può essere un figlio carrie rich ok no la sorella ok lo scrivo io se vuoi vado io mentre tu ci pensi ai personaggi allora la prima si chiama carrie scritto k e r r i e ed è la sorella quindi è novak ok poi poi e la seconda persona chiede se deve essere un fan e poi l'altro non ho capito allora il primo è un parente il secondo è un amante il terzo è un fan ok l'amante è è sposato è fidanzato si è sposato è sposato vuoi mettere la moglie il marito non so se è di tendenze omosessuali o intersexuali metti la moglie Susan Sommer Sommer bello si bene Susan no no te ho fottuto ti cucchi Sommer moglie va bene lo so e poi il fan ok e il fan il fan il fan mettiamo un maschio allora il fan è Jake Jake che tipo di che tipo no di relazione ma in chiara tipo di cioè lui cos'è lui è fa parte del mio movimento ah ok tipo come dire il portaborse il segretario ok il segretario ma mi piace il segretario e ci crede tantissimo in te sì bene mi piace allora il gioco direbbe di scegliere anche la fazione di appartenenza e dare dei dettagli noi andiamo avanti e li definiremo in gioco quando ne abbiamo bisogno devi scegliere la fazione ok ok allora esatto allora noi andiamo cominciamo già ad entrare nel gioco a questo punto tu devi scegliere la prima agenda che Lane Novak vuole compiere ok cosa vuol dire c'è una lista nel manuale di possibili agende di possibili compiti e poi una call to action che vuole andare a fare ok cercando di immaginare le agende sono io te le leggo la una che ti colpisce me la dici ci fermiamo tu ne avrai una inizialmente ne puoi avere massimo 5 durante il gioco ok e e ti puoi dedicare alle agende aperte alle agende che hai attive se riesci a portarne tre a un livello buono e poi ti dirò cosa vuol dire livello buono avrai un happy ending se invece verrai perderai il gioco prima o non riuscirai a portarne tre nessuno a livello buono avrai un finale negativo ok le agende possono essere portate a livello buono sopra un certo volume di punti o a livello completate che allora le chiudi non devi più dedicartici sopra un altro livello ok poi ti dirò quali allora le agende sono espressione personale sono molto variegate poi sono da coniugare sulla cosa condivisione di informazioni elezioni rappresentanza trasparenza viaggi privacy paghe educazione salute educazione è una ok allora intanto ci fermiamo qua allora ok ne basta una si comincia con una tu puoi quando avrai successo nei tiri ne potrai creare delle altre ok allora educazione dobbiamo anche decidere dobbiamo anche decidere metti una barretta un trattino e dopo andremo a definire la call to action quindi cosa nello specifico c'è da fare riguardo l'educazione ok quindi cosa vorreste cosa immagini ci sia bisogno sulla colonia riguardo l'educazione pensi che non tutti possano accedere alle scuole pensi che tutti non tutti possano accedere allo stesso livello di istruzione pensi che tutti che i martiani magari non possano studiare mentre i terrestri si quale tipo di io direi che non c'è abbastanza cioè che non c'è un'educazione accessibile cioè un'educazione paritaria accessibile a tutti ok e quindi e quindi il punto è rendere accessibile a tutta la popolazione un'educazione di base che probabilmente è molto più alta di quella che c'è attualmente allora abbreviamo è dare la possibilità a tutti di studiare ok la metti dopo il trattino se noti andiamo cioè siamo a braccetto o comunque siamo in sinergia con le hunger cards che avevamo messo all'inizio infatti l'ho messo a posto perfetto sei stato bravissimo è così che si fa si sfruttano le basi le fondamenta che si mettono prima per costruirci allora come funziona il gioco adesso abbiamo creato tutto quello che dobbiamo creare come funziona il gioco ci dobbiamo alternare quindi tu hai fatto la vignetta ora tocca a me poi di nuovo toccherà a te e via così a scegliere il tipo di scena che vogliamo andare a giocare ok ci sono tre tipi di scene allora ci sono le scene progresso le scene ostacolo e le scene personali le scene progresso le puoi chiamare solo tu e sarà quando tu descriverai come descriverai o giocheremo come cerchi di portare avanti risolvere i problemi ok le scene progresso che è la scena fondamentale che è la particella fondamentale del gioco in pratica ti consente di intanto descrivere cosa stai facendo o di giocare cosa stai facendo di descrivere o mettere in gioco il piano che hai per fare quella cosa lì ok e l'obiettivo che ti prefiggi ok tipo nel nostro caso se tu hai tutti portare a studiare magari stai facendo un comizio nella piazza della nostra colonia oppure su tutti i schermi della nostra colonia in cui inciti le persone inciti la gente a dover a voler a iscrivere i propri figli a investire del denaro nella cosa a dire che il governo aiuterà le famiglie eccetera eccetera ok il tuo piano quindi è sensibilizzare la gente sensibilizzare il governo l'obiettivo è quello di l'obiettivo è quello di far iscrivere più gente più ragazzi all'istruzione e abbassare le ruote di iscrizione ok questo è un esempio tu avresti potuto dirmi anche far stampare dei cd in cui ci sono tutti i libri e regalarli alle gente ok cioè a questo punto tu dichiari se il livello con cui agisci o fai agire il gruppo di persone che stai utilizzando è basso tipo protesta civile ok tipo parliamone di sta cosa ok sarebbe giusto fare parliamone il secondo livello è disobbedienza civile ok famiglie presentatevi davanti alle scuole e fate entrare i vostri figli anche se non sono iscritti ok rompere le leggi ma senza menarsi ok la terza è rivolta violenta ok cioè mandate i vostri figli a scuola e se non vi fanno entrare picchiatevi i figli sì tutti 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 quelli che capitano sotto tieni presente che durante la scena tu potrai escalare ok cominciare dalla cosa civile a diventare disobbedienza e poi ok perché questo perché tu andrai a tirare dei dadi a seconda del livello se è protesta civile tirerai due dadi se protesta se disobbedienza civile quindi secondo livello tirai quattro dadi se è rivolta violenta tirerai sei dadi perché naturalmente il grado maggiore otterrà cioè è possibile che ottenga risultati più forti e migliori tra l'altro il livello le scalare serve perché perché il livello medio ti permette di ignorare un fallimento il livello alto ti permette di ignorare due fallimenti ogni volta che tu ottieni un fallimento che non puoi ignorare tu fallisci nel tentativo di progresso e ne hai solo nove ok ok aspetta quindi i fallimenti sono la timeline no non c'entra niente la timeline le timeline sono le volte che tu puoi tentare di cambiare le cose ok quindi quando fallisco scala di uno esatto cosa succede quando fallisci scala di uno e non ottieni progressi però se invece tu ti fermi e hai o ignorato perché avevi scalato e poi ignorarli o ti sei fermato e non hai ottenuto dei fallimenti puoi prendere tutti i punti che hai ottenuto con i dadi e metterli su change di fianco a educazione tutti possono studiare ah è come dire ho fatto qualcosa non abbiamo ottenuto niente adesso ma posso usarla più avanti esatto quando arrivi a 40 punti change in realtà 40 punti ok perché poi ci sono anche i punti hop ma ti spiegherò tra un attimo e quando raggiungi 40 punti change hai ottenuto dei progressi sensibili ok puoi narrare come le cose cominciano a cambiare le cose cambiano quando raggiungi gli 80 hai cambiato quella cosa lì l'hai cambiata hai ottenuto qualcosa di nuovo e bello per quello che volevi ottenere ok potenzialmente il senso è che posso ottenerlo facendo una cosa eclatante oppure posso ottenerlo facendo molte cose piccole esatto però tu ne hai 9 ok 9 tentativi ok cosa sono lo stai pagando lì il 9 vuol dire che se più facile è il previsto c'è 9 tentativi allora io questo gioco non l'ho ancora provato lo sto provando con te però vediamo cosa cosa succede ok attenzione che ogni volta che tu ignori un fallimento un token viene spostato da loyal a tresonus a tradimento ogni volta che scusami tu ignori un un fallimento ok 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 c'è un ma naturalmente tu sai che a 5 tradimento tu saluti ok c'è un ma e tu puoi ok aspetta che lo ah eccolo qua scusa tu puoi anche mettere un gettone su hop sembra usare sacrificio prendi change ok in pratica se tu hai un uno che non puoi ignorare ok puoi ancora rischiartela cosa vuol dire tu praticamente prendi un gettone un token da loyal lo sposti su hop ok lo sposti su hop in pratica descrivi come la racconti alla folla alla gente loro si fidano di te loro si fidano di te e tu prendi tutti i risultati utili che hai ottenuto fino a quel momento e li metti sotto nell'agenda sulla colonna hop ok questi vanno a contare per il totale insieme a change per cui tu puoi ottenere 30 punti in un tiro 30 punti su change puliti belli ok tu puoi ottenere 20 punti su hop ok e perché gliela racconti e tu hai un totale 50 punti vuol dire che tu stai cambiando le cose effettivamente non hai ancora il solito problema stai cambiando le cose effettivamente perché il totale è 50 dov'è la fregatura di hop la fregatura di hop è che vengono smascherati tutte le tue bugie che hai raccontato finora per tenere sulla baracca quando ottieni due dadi che danno come risultato uno insieme al numero di gettoni hop che hai sulla casella hop o inferiore cosa vuol dire se tu hai un gettone su hop se tu poi ottieni 2-1 che non puoi ignorare contemporaneamente allora vengono smascherate tutte le tue bugie e tu perdi tutti i punti che hai accumulato su hop in tutte le agende ok quindi tu puoi cercare di raccontargli da tenere sulla baracca finché non vieni smascherato non c'è altro c'è nel senso ah scusa chiarisco se tu hai due gettoni hop vuol dire che se escono 1-1 contemporaneamente o 1-2 contemporaneamente tu vieni smascherato se hai tre gettoni 1-3 1-2 e 1-1 ti fottono però deve essere cioè il fallimento è solo l'1 ah scusa dicevo prima perché l'ho sempre chiamato fallimento per non complicarti le cose il fallimento è solo l'1 ok quindi se io faccio tipo ho tre gettoni hop faccio 2-3 sei a posto va bene ok devo avere un fallimento e il gettone e la coppia il gettone hop esatto allora dicevo abbiamo fatto la scena progresso gli altri tipi di scene che andremo a intervallare sono le scene contrasto opposizione che sono quelle che faccio io per metterti davanti i problemi cioè io narro una scena in cui dico ah le televisioni annunciano che c'è violenza per strada perché i ragazzi fanno parte di gang perché non vanno a scuola e allora tu in teoria dovresti fare una scena che cerca eh cerca di risolvere questo problema ok ok e le scene personali invece che è il terzo tipo di scena e possiamo chiamarle entrambe e possiamo chiamarle entrambe è invece un una scena in cui si vede il il coso personale il coso personale si vedono scene di vita privata del personaggio principale e servono per approfondire eh lane novak ok quindi la prima scena quella di avanzamento posso chiamarla solo io le altre puoi chiamarla anche tu esatto quelle di avanzamento no quelle di avanzamento è personale le puoi chiamare solo tu quelle di contrasto è personale le posso chiamare solo io va bene ok bene direi di partire con il gioco ok vai siamo stati didascalici nel mostrare come si crea il personaggio però è la maggior parte una buona creazione permette di giocare in modo migliore allora tu hai descritto il personaggio io adesso vado a vado a fare una scena che può essere personale o di contrasto visto che questa è una demo e le scene personali ci saranno sicuramente nel mezzo dovrei andare subito con una scena di contrasto e visto che l'ultima qua che descrivevo mi piaceva direi di andare assolutamente a giocarla stai sei uscito di scera con tua moglie Summer dove siete andati a cena al cinema c'è qualcosa di fantascientifico in questa colonia qualcosa di fantascientifico beh c'è sicuramente come dire il tour del ci sono tipo queste metropolitane aeree ok in dei tubi trasparenti qui hai la visuale di notte vedi tutto quanto la città dall'alto eccetera facciamo che siete appena tornati da una cena ok siete andati a cenare a un ristorante fusion italiano giapponese praticamente fanno il 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 riso come si chiamano i cosini di riso i nigiri no i makhi i makhi con la pasta dentro esatto però lo fanno con il riso allo zafferano risotto allo zafferano e il risotto alla veneta eccetera eccetera con l'anduia eccetera eccetera è una specie di fusion ok siete seduti vicino all'uscita tua moglie ha immagini capelli castano ramati ok un po' anni 50 quindi ondulati e veste anche un vestitino un vestitino un vestito di quelle a ginocchio a poire è carina ti sorride un po' come se fosse uscita da madman intanto nel finestrino dietro di lei scorre il panorama della della colonia e ti vede il tuo riflesso stanco mentre lei ti guarda e ti sorride e ti dice che cosa c'è quando sentite annunciare la vostra la vostra fermata che cosa le rispondi io ero assorto stavo guardando la città ma non la stavo guardando quindi ero molto assorto nei pensieri quindi mi risveglia un po' quando mi chiede cosa c'è le dico scusa ero un po' sovrapensiero sai sono state delle giornate un po' difficili tra il lavoro e tutto quello che stiamo cercando di fare per per il futuro lei ti allunga una mano e ti tocca la guancia appoggiandotela sulla barba e ti accarezza col pollice e fa sei sicuro che questa cosa non ti stia stancando troppo intanto senti il cianciare di un gruppo di giovinastri di ragazzi in fondo al vagone che hanno buttato per terra delle cartacce di patatine una bottiglia di birra in alluminio non è in vetro rotola sotto i loro sedili e raggiunge l'altro lato del treno io le dico sì hai ragione mi sta stancando veramente tanto sono veramente stanco però è una cosa se non la faccio io chi la farà e do solo un'occhiata verso i giovani non c'è come dire non faccio ancora niente vengo un po' distratto dal dal cianciare il treno va e questo treno sospeso va a fermarsi si rallenta fino a fermarsi per la vostra stazione vi alzate lei ti sorride si aspetta che ti alzi anche tu e nel frattempo si alzano anche i ragazzotti abbandonando dei rifiuti abbandonando le cose ridendo lanciandosi cartacce addosso quando sono vicini a voi pronti per uscire le porte si aprono uno di loro ti spinge via sono chiaramente in età scolastica e è abbastanza tardi perché loro non dovrebbero essere in giro qua uno di loro ti spinge da una parte e infilandoti una mano addosso ti ruba documenti e carta di credito scappando via ridendo insieme con gli altri tua moglie che era lì a guardare la scena ed è rimasta non terrorizzata però sicuramente colpita dall'accaduto ti allunga una mano e tu sei stato spinto addosso i sedili ti allunga una mano per cercare di darti una mano a rialzarti e ti fa qui ragazzi dovrebbero essere letto a quest'ora ti sei fatto male mi hanno rubato i portafogli ho detto vabbè io mi alzo i documenti mi rialzo aiutato da mia moglie dico no non mi sono fatto niente sbuffo vistosamente un po' sconsolato perché sono più sconsolato che arrabbiato per quello che è successo forse mi sono accorto che mi hanno rubato il portafoglio del documento si proprio l'hanno alzato ridendo se lo lanciavano l'un con l'altro scappando via ok ok più sconsolato appunto che arrabbiato esco dal vagone con mia moglie tanto è la nostra fermata e le dico si dovrebbero essere letto ma questo cioè se le famiglie non sono non controllano i propri figli e non danno uno scopo o forse è solo colpa nostra dico se questa gente se questi ragazzi potessero studiare potessero avere un certo tipo di educazione non avremmo come puoi ben vedere tutti quei rifiuti sul treno e che ti ci rubano il portafoglio la notte e io accendo vai ok no dicevo dopo questa frase no va benissimo che sfumiamo e lascio a te l'opportunità di scegliere una scena allora io ho la scena di avanzamento allora progresso o personale personale se vuoi se senti bisogno di costruire il personaggio approfondire costruire una storia progresso se vuoi se vuoi mandare avanti la storia e cercare di risolvere il problema facciamo la progresso ok tu puoi descrivere quello che fai oppure impostare la scena e ce la giochiamo allora proviamo a descrivere quello che faccio ok allora la mia scena progresso è io voglio andare al parlamento io immagino che tipo nei treni e tutto quanto ci sia un buon sistema di sorveglianza quindi delle telecamere e tutto ci sta e quindi io vorrei recuperare quei filmati della sera in cui io sono stato derubato e andare a proiettarli in parlamento o al congresso ok allora la scena è tu che al congresso al consiglio della colonia stai facendo vedere l'immagine di quello che è successo qual è il tuo piano e cosa vuoi ottenere il mio piano è allora io ho censurato ho fatto censurare le facce dei ragazzi ok perché non mi interessa che non mi interessa colpire i singoli punire i colpevoli ma far passare il messaggio che questo succede perché non tutti hanno le possibilità di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato è l'unico modo perché tutti possono sviluppare un'idea di cosa è giusto e cosa è sbagliato è avere un miglior sistema di educazione ok quindi il tuo obiettivo è cambiare sistema di educazione e lo stai fatendo con una protesta civile direi sì sì esatto posso come dire posso avere anche magari come dire pubblicizzato la cosa sui social in maniera da che le famiglie sappiano che la gente possa sapere che quel giorno si discute questo e quello quindi protesta civile non solo mia ma anche ok stai diffondendo la notizia mi piace allora dirai che è il momento di andare a tirare i dadi tu tiri due dadi da sei due dadi da sei grazie allora due due e sei ok per cui tu ottieni attraverso questa tua questo tuo questo tuo piano otto punti change cosa vuol dire vuol dire che per il momento esatto però sono momentanei nel senso che tu puoi fermarti oppure proseguire e ritirare ancora tu puoi semplicemente ritirare e fa parte di questa cosa che hai già descritto oppure aggiungere descrizione oppure escalare e tirare più dadi tieni presente che naturalmente se tu avrai degli uno che non potrai ignorare perderai anche questi otto punti ti ricordo che hai solo nove progresso tra l'altro io vado a spostare lo metto sul nove proprio comprendolo dicendo che te ne mancano altri otto ok quindi io adesso io potrei dire che ne so potrei andare avanti con la descrizione in maniera da dire e quando faccio e faccio anche questo e tiro di nuovo esatto oppure mi posso fermare e tenerti quegli otto oppure posso scalare esatto puoi escalare anche dopo attenzione cioè tu puoi tirare se faccio uno posso escalare esatto nel mentre tu praticamente quel prossimo tiro tu parli ancora per esempio vai nelle scuole fai un uno e mi descrivi come trasformi la protesta civile in disobbedienza civile e puoi puoi ignorare un uno che ti è uscito ok ok e beh andiamo avanti allora dai non sono bravo in questi giochi in cui bisogna scegliere di fermarsi ok allora io dopo aver fatto questa cosa praticamente prendo il filmato sempre sempre chiedendo tutto e lo pubblico sui canali social che dispongo io e lo faccio mandare in giro per il mondo ma tipo anche con c'è montato in maniera seria con i dubbi con tutto quello che è stato detto nel consiglio oh bene mi piace e quindi ritiro tiri due danni adesso prenderò delle botte due danni a sei tre e tre wow sono oh bene quindi altri sei giusto altri sei sei a quattordici ti ricordo che con quaranta tu stai cambiando le cose tre agende da quaranta ti permettono di avere finale positivo oddio ok ho detto non sono per niente bravo in questa cosa però siccome io posso ancora scalare sì io quasi quasi vado avanti oh bravo mi piace fermarsi qui quindi direttamente o aggiungi qualcosa alla fiction no giungo qualcosa perché perché dopo aver fatto questo inizio faccio inizio a fare delle serate nelle strade e tipo centri di congressi e cose del genere per attivare per fare in modo che le famiglie vengano a conoscenza di questa cosa cioè che c'è la possibilità che un nuovo sistema educativo prenda piede che il governo sta lavorando su questo che l'idea è fare appunto accessibile a tutti questo modo in questo modo è più facile poi scalare sulla disobbedienza e quindi pulisco e e faccio 3 e 5 altri 8 siamo a 22 a metà strada stai veramente facendo cose per Marte complimenti sì adesso inizia quella fase in cui beh no vado avanti ancora basta non aggiungo nient'altro eh sì finché non esce un 1 vai vai nessun problema come dicevo prima c'è una meccanica di rischio 6 e 6 eravamo a 22 adesso siamo a 34 che cosa fai? vado avanti che domande sono e direi che porto la cosa a questa protesta civile come protesta vera e propria cioè con gli studenti che vanno in piazza con le famiglie che vanno in piazza e vanno a manifestare davanti al eccetera eccetera clear adesso 2 1 4 e 4 ma che culo hai oggi? comunque eravamo a 34 con questo fai 42 quindi vuol dire che saresti già a livello sufficiente per a livello buono e il corso sta cambiando le cose però a 80 tu risolvi il problema il problema? eh no io vado avanti caruno ok vai baby vai una persona che non sa quando è Roland Smith anzi no family siccome se sbaglio li perdo tutti sì siccome se sbaglio li perdo tutti io come dire mi ritengo soddisfatto di aver fatto parlare un sacco di gente di questa cosa ok mi piace quindi eravamo rimasti siamo a 42 segna 42 mentre io vado a mostrare di nuovo la scheda che cambia 42 punti change sull'agenda dell'educazione esatto io nel frattempo mentre vai a scriverlo ti do altre due dritte sul funzionamento del gioco che non ho fatto prima per non appesantirti a cosa servono a cosa servono i follower tua moglie tua sorella e il nostro segretario portaborse a essere sacrificati quando tu quando ti calano le braghe praticamente ti dicevo prima che quando ti smascherano tu puoi sacrificare scusa no quando ti smascherano quando un punto passerebbe da loyal a traditore tu puoi sacrificare un follower per per non far passare quel punto il livello di cambiamento di mossa che stai facendo indica la fine che fai follower cioè se tu sei rivolta violenta e sacrifici un follower probabilmente verrà o esiliato o ucciso se tu sei a rivolta civile invece verrà magari imprigionato o semplicemente si allontanerà da te ci sono è un modo per dare la colpa a loro invece esatto ci sono delle meccaniche naturalmente che vedremo solo se sarà necessario che anzi te lo dico subito perché è facile tra le tre opzioni che puoi fare siccome hai ottenuto un successo tu ora puoi creare una nuova agenda o liberare un follower nel caso tu l'avessi fatto imprigionare e siccome follower non ne hai direi che è ora di creare una nuova agenda creiamo una nuova agenda questo povero tizio che non dorme deve fare altre cose da me è andato in giro ha fatto parlare cioè c'è gente in giro per tutte le piazze e le vie della colonia che lotta lotta per avere i propri diritti a studiare esattamente ora vai rileggimi le agende ti rileggo le agende così puoi scegliere quella che su cui ti piacerebbe lavorare espressione personale condivisione delle informazioni elezioni rappresentanza trasparenza viaggi rappresentanza rappresentanza ok allora scrivi rappresentanza metti un trattino e esprimi in concreto qual è la cosa che vuoi fare per lottare per il problema della rappresentanza allora il problema della rappresentanza cioè che nel consiglio vengano nel consiglio nei centri di potere vengano espressi tutti i generi di tutti i tipi di persone che sono di cui è composta la colonia ok mi piace questa cosa che ci siano uguaglianza di partecipazione rappresentanza cioè uguaglianza di parte di parte di noi la capiamo sì ok tu hai fatto la tua scena ora tocca a me a scegliere siccome non voglio fare subito contro di te sceglierai una scena personale ok ok prima abbiamo visto tua moglie adesso vediamo tua sorella ok sai cosa la mettiamo subito con questa cosa magari non è proprio anche se le scene sono molto fluide non è proprio una scena contrapposizione è una scena personale c'è tua sorella nel tuo in casa tua vivi in un appartamento o hai una casa no in un appartamento scusa ho visto una cosa prima un appartamento allora lei è seduta sul tuo divano ok dammi un attimo la descrizione del tuo soggiorno ha una finestra cosa si vede dalla finestra ai mobili come sono allora un mobilio molto scarno molto squadrato c'è una grande finestra al lato del divano c'è tipo una parete intera vetrata che dà sulla città probabilmente non è nella parte super buona della città è nella parte residenziale diciamo e si vede si vedono gli intrecci della metropolitana un po' i bassi fondi un po' il centro cioè si intravede un po' tutta la città ok lei è seduta sul tuo divano indossa un paio di jeans e una maglietta abbastanza di quelle tipo heavy metal solo che ha il disegno di un gruppo che va tantissimo qui su marte ok ha le unghie nere e i capelli biondi ok lunghi biondi lisci lei ha le mani sulle ginocchia e non ti sta guardando in faccia sta guardando verso il basso e ti fa senti Lane lo so che hai già mille problemi e non ti non voglio creartene altri ma noi siamo fratello e sorella vero tu dove sei e cosa stai facendo io ho fatto ho preparato un tè e glielo sto portando oh bello mi piace si sente il profumo del tè quel vapore acqueo denso di profumi che alleggia in una casa in cui c'è cura non dico per la famiglia però le persone si prendono cura di loro stesse lei alza sentendo l'odore un ciuffo di capelli le cade giù sul fianco e mostrando i suoi occhi scuri lei ti fa te ne sarai accorto ormai sono lei sorride che fa che fa che che mi piacciono le donne io mi siedo allora io appoggio il il tè su un tavolino cioè la mia tazza di tè sul tavolino le passo la sua mi siedo di fianco a lei sul divano mi giro a guardarla e le dico beh sì insomma più o meno da quando avevamo sette otto anni lei sorride e fa e e e sai che non so star lontana dai guai ecco penso penso di aver combinato un casino io bevo un sorso di tè e dico qualcosa che non è possibile risolvere lei fa non lo so è che sono 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 andata sono andata lei tentenna come se volesse come se non riuscisse veramente a sputare le parole lei è sempre stata una che non te la manda a dire però adesso fa veramente fatica a dire quello quello che ha quello che ha dentro fa oh senti sono andata a letto con il il sindaco Dias la sindaco Dias fammi vedere chi è di che fazione è la sindaco Dias è gold è anche tranquilla perché gold ricordiamo sono quelli tra la lega e la lobby dei petrolieri wow wow e e io trattengo un po' il sorrisetto ma sei uno scusa vai perché conosco la sindaca Dias e la guardo e le dico ok tra tutte le persone possibili il sindaco Dias e sai com'è eravamo a una festa di cui non ero stata invitata fa lei si alza in piedi ti dà le spalle si mette le mani così incrocia le mani sul torace e poi si gira e poi sai un cocktail tira l'altro e siamo finite a letto ma adesso lei mi ha mi ha fatto sapere dalle sue guardie del corpo che se se dico una parola in giro sono fottuta sì immagino che il sindaco Dias non sia dichiaratamente ma figurati molto bene abbiamo una leva su cui faremo una leva per il sindaco io le dico le chiedo e tu invece vorresti passare più tempo con il sindaco Dias lei si gira di scatto e fa due passi fino a raggiungere di nuovo il tavolino dove sei tu dove c'è il te e ti punta un dito contro dicendoti io vorrei semplicemente poter fare quello che voglio e amare le persone che voglio amare e a stronze come lei poter dire che stanno sbagliando e non dovermi tappare la bocca solo perché lei è il sindaco e io sono l'ultima dei marziani ok ho capito il punto qualche le dico ok posso posso provare a fare qualcosa allora perché non capivo qual era il dubbio perché se il dubbio era no sono follemente innamorato del sindaco di 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 voglio 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 mettere il sindaco di 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 tieni presente che questo gioco un attimo for out of game questo gioco non è il io ti do il compito e tu lo risolvi avresti anche potuto fraintendere le sue parole e poi avremmo visto le conseguenze nelle scene successive cioè c'è anche c'è anche l'evoluzione e la storia di personaggi nel mezzo ok a me fa comodo questa cosa perché io posso andare dal sindaco di e dire ehi ehi tu ehi tu che ti sei fatta mia sorella quanta pubblicità ti fa e quanto fa comodo a me sapere che tu sia una minoranza allora direi di tagliare quale scena e vedere cosa farai nella prossima tu ti chiederai solo perché tra un po' però comunque non abbiamo tantissimo tempo ti chiederai di andare spedito con le scene di progresso e se proprio ne senti bisogno di chiamare scene personali no facciamo scene di progresso che andiamo avanti vediamo tutto il gioco esatto allora io io sono deciso se andare a parlare al sindaco Dias effettivamente o se no allora vai allora intanto hai scelto una scena di progresso quindi prima cosa spostiamo avanti il segnalino sull'otto ah è la cosa che si fa subito la cosa che si fa subito quando tu scendi le scelte progresso per forza va avanti ok ok e allora andiamo dal sindaco Dias vado dal sindaco Dias a parlarle il mio punto è parlarle di mia sorella ok e parlarle di quello che è successo e dirle che si insomma siamo su Marte siamo una colonia avanzata mi sembra un po' stupido fare queste come dire queste discriminazioni inutili anche perché le dico pensa anche dalla tua parte potremo collaborare in maniera da poter da poter fare in modo che tutti stiano bene e col tutti intendo cioè e lascio un sottointeso col tu ok ti chiedo perché siamo borderline è una protesta civile è una disobbedienza civile è una protesta civile ok quindi ti tiro solo due esatto ti eri due dadi vedi come la scelta strategica dei dadi va a influenzare anche quello che descrivi in fiction perché tu avresti puntato potresti puntare anche più al io so che sei così guarda che altrimenti andiamo tutti a merda e quindi diventa un po' meno disolver non lo possiamo fare dopo ok tiri due dadi a 6 e ottieni oh oh 1 e 5 1 e 5 a questo punto tu hai un 1 le scelte che puoi fare sono o andare verso l'op e quindi millantare però rischiarlo poi oppure alzare il livello e quindi a diventare una disobbedienza civile oppure fallire allora se io mando in op e poi fallisco posso scalare comunque se tu mandi in op se tu mandi in op finisci immediatamente se tu mandi in op prendi i 5 punti e finisci allora mando in disobbedienza civile ah quindi escali ok e la faccio la faccio come hai detto tu come dire nel senso tieni presente che ogni uno che ignori e anche scalando vanno in tradimento adesso questo questo uno va in tradimento questo uno va in tradimento ok ma noi tiriamo oh wow marco mi porti sfiga però va bene va bene allora puoi andare in protesta violenta picchio vabbè no allora il gioco il gioco scusse sto passando sto bypassando una cosa naturalmente tu che hai lanciato un uno io devo dirti le tue parole non la toccano lei probabilmente ha un completo da uomo in giacca e cravatta ha i capelli neri tagliati molto corti qua sopra le orecchie gli occhi azzurri si sistema la cravatta una cravatta scura si alza in piedi e guardandoti in faccia fredda fa tu non mi puoi toccare intendendo sia personalmente che nelle emozioni che mi hai reso molto più facile del tutto perché scalo e come dire allungo le mani la ferro per il bavero della giacca ok e e le urlo addosso che che ho tipo tutte quelle cose come ho molta più stima ho centomila volte più stima di mia sorella che vive la sua vita come come si sente e com'è che non di di te stupida burocrate che deve tenere nascosto ed essere infelice sempre e cose del genere ok a questo punto tu ne hai ignorati due che vanno su tradimento grazie prego perfetto vedete che controllo che si stia vedendo infatti non si stava vedendo ma adesso si vede e puoi tirare ancora se vuoi adesso posso tirare sei dadi adesso adesso tiri sei dadi non puoi più ignorare gli uno e scalando puoi ignorare un uno puoi evitare un uno mettendolo su hop ok ma quindi non è cioè nel senso è più facile fallire con la protesta violenta non fa avere successo però hai la possibilità di ottenere molti più punti change certo certo se ci pensi rispecchia la fiction cioè una rivolta violenta è molto più facile che vada in merda ma è più facile anche che ottenga risultati più velocemente e certo dai facciamolo cazzo cosa hai fatto l'uno cosa hai fatto ho fatto un uno che posso mandarlo in hop però esatto e tu mantieni tutto il resto se lo mandi in hop ricordo che puoi sacrificare un follower per non mandarlo in hop no posso sacrificare un follower per non mandarlo in in tre guarda ho visto che mi ero fatto la parentesina anche qua di fianco a hop con scritto si può usare sacrificio poi anche per evitare un hop mandare usare un sacrificio ne mandi uno in hop ne mandi uno in hop ok quindi spostalo e e siamo dall'altra parte voi non avete notato niente per noi sono passati tre giorni non è vero anche perché sono in stessa posizione dicevo che andiamo sulle schede ok perfetto c'è tutto 29 punti su change al costo di tre gettoni uno allora però devi descrivere come millanti l'hop perché allora quando tu ottieni l'altro uno naturalmente lei tu l'hai presa per il bavero lei sorride e ti sussurra all'orecchio e ti dice tu pensi di poter cambiare le cose ma in realtà non non vali niente cadrai stai già crollando allora io mi lanto l'hop dicendole che no che in pratica devi bleffare io gli ho detto che sono sicuro che avendo raccogliendo tutte le parti avremo abbastanza potere per poter andare a cambiare le cose direttamente in alto ok bene mi piace questa cosa fine della scena ora tocca a me io direi io direi che il giorno dopo c'è una dichiarazione a reti unificate tu sei in casa che stai guardando il video e vedi il sindaco comparire e dicendo il rappresentante Lane Novak da questo momento è assolutamente stato tolto da ogni carica politica perché non è in grado di svolgere il suo compito e assolutamente parteggia per delle minoranze pericolose e rivoltose e assolutamente non famiglia cattolica cristiana e famiglia tradizionale mulino bianco questa l'ho aggiunta io ma era un apostrofo rosa tra le parole ti amo la parola è mulino e bianco wow mi ha lavorato bene naturalmente questa è una cosa che ha dichiarato lei io non ho specificato niente di più lascio a te il fatto che sia una millanteria sua che sia un tentativo di buttarti giù o che effettivamente tu abbia perso parte del tuo potere a me piace pensare di aver perso parte del mio potere ok quindi mi immagino che tipo come dire mi sei arrivata mail o telefonate da effettivamente dall'ufficio dicendo che magari non ho perso i poteri del tutto ma come dire si prenditi ferie prenditi ferie non ti preoccupare si prenditi un mesetto di ferie non preoccupare che tipo di scena vuoi fare che tipo visto che abbiamo poco tempo che tipo di scena vuoi fare ah ma aspetta questa era la tua scena di conflitto esatto allora tocca a me fare una scena quindi io farò una scena di avanzamento quindi sposto il gettone su 7 si e facciamo una scena di avanzamento scusa un attimo scusa un attimo hai avuto successo prima per cui anche a costo di un open un trasmus però hai avuto successo per cui puoi creare una nuova agenda la vogliamo creare prima di andare avanti o facciamo questa e poi la creiamo facciamo 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 questa e poi la creiamo dai non c'è mai che devo liberare qualcuno per non rompere il ritmo e allora facciamo una scena di avanzamento e io vorrei mi piacerebbe molto andare a svanculare il sindaco però sarebbe brutto una cosa da brutta persona però c'è anche il tizio come si chiama il tizio della News Network Corporation che fa parte della mia fazione il lead anchor di Mayer nota come il gioco ti dà molte possibilità di azione e non semplicemente agisco in contrasto a quello che è appena successo cioè puoi andare per farti quello delle news puoi andare direttamente a muso duro puoi andare dalla tua fazione puoi smuovere la gente puoi fare un sacco di cose allora io sceglierò ancora di fare la scena raccontata così possiamo vedere più cose io andrei dal punto Theo Mayer il lead anchor del News Network Corporation ok a fare cosa il mio scopo è andare a sollevare tutte le minore dare in tv per come dire sollevare tutte le minoranze contro questo comunicato della sindaca che chiaramente parteggia per una parte e come è possibile che la gente che ci rappresenta parteggi solo per una parte e e insinuare che la sindaca abbia qualcosa da nascondere per cui io parto direttamente con la disobbedienza civile oh mi piace ok quindi vai a tirare quattro dadi yes quattro dadi e via 2 3 6 6 mecca stigazzi sono 12 e 3 e quindi 5 e 17 17 quindi più i quanto ne avevo prima 26 mi pare 29 29 ne avevo quindi 17 36 e scusa si 36 e 46 quindi potresti fermarti e raggiungere il livello di sufficienza anche qua però io mi forco però il tuo però 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 mi fermo come dire mi fermo e raggiungo il livello dai va bene allora vado avanti di un altro no vado avanti di un altro ti metti i miei 17 ok tengo in mente i tuoi 17 e sono ancora in disobbedienza civile giusto si a meno che non escali no non potre no 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 1445 ok però quest'uno che cosa fai con quest'uno 17 sarebbe 42 a 80 si c'è la cosa giusto a 80 vuol dire che l'hai risolta ok è lunga 80 è molto lunga e allora mi questo segnalino lo metto in quindi perché puoi ignorarlo perché sei già in rivolta esatto lo ignoro e però vai a e vado a 17 più quanto è più 8 e 5 13 quindi fa 30 quindi siamo a 30 59 mi piacerebbe andare avanti ancora avendo l'ignorato potrei scalarlo aspetta però tu l'hai ignorato per cui uno va in tradimento ho già messo ho già messo sono a 3 adesso in tradimento ah ok scusa perché io ne vedo ancora 2 no sono a 3 in tradimento l'ho appena spostato adesso cercherò ah perché ok era sotto non lo vedevo ok perfetto ok sono a 3 in tradimento quindi se io poi fallisco posso andare posso metterne uno in hope giusto sì e ti ricordo che vieni smascherato beh perdi perdi tutti i ah aspetta però faccio 2 1 vengo smascherato sì ma i punti di prima che hai preso con change vanno in change e vanno in hope scusa che hai preso con hope vanno in hope ah quindi questi 29 vanno in hope esatto perché li hai presi prima con hope quindi se tu vieni smascherato perdi tutti quei 29 punti oh no allora no mi fermo 17 più quindi sono a 30 eri a 30 e lì sono 29 finora ne hai 30 puliti e 29 in hope ah no mi tengo i 30 puliti allora qui dentro di qua 30 ok e sono e mi fermo qui quindi ho un sono riuscito a fare cose giusto esatto quindi posso allora tu puoi narrare come le cose cominciano a cambiare allora mi piacerebbe pensare mi piace pensare che la mia apparizione in tv abbia fatto vabbè si è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso come dire e quindi la gente inizia a parlarne in maniera molto più puntuale si formano delle associazioni i vari social iniziano a parlare di più la gente ne parla di più per strada qualcuno inizia a aver dubbi sul sindaco e sulla cricca mi piace ok bene a questo punto tocca no devi fare un'ulteriore agenda la terza agenda fanno le due quindi abbiamo avanzato quella di prima sì perché c'era anche quella di prima allora io ti leggo le agende disponibili e tu ne scegli una le agende disponibili sono espressione personale condivisione delle informazioni elezioni rappresentanza l'abbiamo già fatto trasparenza viaggi privacy paghe educazione salute lavoro immigrazione pulizia uguaglianza case e poi ci sarebbero delle altre ma non le ho riportate vabbè possiamo mettere uguaglianza o immigrazione o tutte e due risolviamo a farne due ok mettili tutti e due allora allora c contro c contro voglio contro c allora abbiamo detto uguaglianza ok e l'altra è immigrazione ok ok ci sono allora dobbiamo mettere il perché no il qual è la call to action cioè l'uguaglianza cosa c'è bisogno di fare da fare nel breve termine o immediatamente per te cosa di nell'uguaglianza beh vuol dire parità dei diritti ok quindi non solo la scuola come prima ma adesso parità in tutto martiani e terrestri devono essere pari in tutto ricchi e poveri devono essere pari in tutto e per quanto li riguarda l'immigrazione e l'immigrazione se posso suggerire se posso suggerire prima era proibito per i marziani andare sulla terra ok e quello sarebbe viaggi quello ma allora ah beh perché questa è immigrazione effettivamente hai ragione anche tu per quanto riguarda se noi mettiamo viaggi ah ok dai perché mi piace questa cosa cioè mi è venuta spontanea secondo me potrebbe essere carina non so se oppure possiamo anche tenere immigrazione inteso come immigrazione sulla terra è uguale ok va bene tanto sono spunti cioè marziani quindi tocca a te adesso fare la scena corretto allora tocca a me fare la scena lo farò assolutamente lo farò subito in breve termine in pratica dopo che la terra ha saputo quello che è successo che cominciano a essere cambiamenti e sono mosse su Marte chiude tutte le frontiere e dice nessuno può muoversi nessuno verrà spostato siete in detenzione fino a nuovo ordine e naturalmente il governo marziano promuove questa cosa perché nel consiglio ci sono un sacco di terrestri ci sono dei rappresentanti terrestri ed è influenzato da questi e quindi in pratica tutta la colonia è in castigo tra virgolette fino a nuovo ordine ok allora chi posso andare a parlare beh manca allora io faccio ovviamente una scena di avanzamento quindi spostiamo pure a 6 che poi magari continuo a chiamarla di avanzamento ma non si chiamerà sicuramente di avanzamento non mi ricordo come si chiama di progresso progresso ok e la scena che è che ho di contatti nel governo no abbiamo gli united workers of mars beh mi sembra che i sindacati potrebbero fare qualcosa quindi la mia idea è andare da il council member Jiang Li che è un membro del consiglio aspetta vediamo di che fazione è perché magari cioè non abbiamo mai parlato delle fazioni sì ma midnight è tra il movimento no vax quindi fake news eccetera eccetera e la lega beh ok posso fare chiaramente cioè come dire posso lavorare sulla parte dell'indipendenza ci stanno siamo ancora una colonia se loro non ci vogliono neanche noi vogliamo loro che brutta che brutta persona che sta diventando Jan Novak ok e l'idea è appunto andare a seminare scompiglio come dire far muovere la lega dei lavoratori per fare in modo che da poter riaprire le frontiere lo scopo è il riaprire le frontiere e fammi vedere quali sono le mie agende per la diritti martiani sulla terra e andrei a lavorare sulla faccenda dell'immigrazione cioè il libero scambio il libero il libero scambio di persone il libero scambio di lavoratori la possibilità che noi possiamo andare sulla terra come loro possono venire qui bravo perché loro possono scegliere qui e noi non possiamo andare là bravo e penso di andare dalla persona giusta assolutamente sì assolutamente questa qua è una protesta civile o proprio dici di disobbedire alle leggi no allora io inizio con la protesta civile perché voglio che se ne parli voglio che voglio dire che lui inizi a lanciare la parola sul comitato mi piace vai con il tiradadi due dadi 5 e 5 stiamo riprendendo alla grande non dirlo non dirlo 5 e 5 lui sembra lui sembra accogliere favorevolmente la tua idea anzi dice era ora che qualcuno prendesse in mano la situazione io sono sempre stato dell'idea insieme potremmo fare grandi cose ok e vado avanti vai nel senso lascio che si che le cose si dimentino clear all dice ok a 2 2 e 3 ok sono ancora salvo siamo ancora salvi siamo a 15 totali puliti esatto cleaned ok e io direi che adesso diventa una disobbedienza civile cioè ha preso piede la cosa e il come si chiama la perché la frontiera ai terrestri mamma mia quindi ci sono tutti i lavoratori che si oppongono alla cosa insorgono e fanno picchetto ok esatto come perché se no cioè se noi non possiamo venire da voi voi non potete venire da noi vai con quattro dadi siamo a 15 puliti e questa volta fai un e adesso dico vai tranquillo a 1 2 3 4 che cosa abbiamo qua allora io potrei sacrificare una delle mie persone allora tieni presente che sei a 1 2 3 4 quindi vuol dire che dovresti ignorare un 1 per prendere il resto se ignori un 1 vai a 4 oppure puoi sacrificare una delle tue persone abbiamo il segretario Jake che non è stato ancora visto Carrie la sorella che lottava solo per ciò in cui crede il suo amore Summer che ti vuole tanto bene tua moglie sacrificiamo il segretario che non abbiamo ancora visto ecco a cosa servono le scene personali è creare più empatia e profondità nei png e quindi poi a rendere più difficile il sacrificio oltre che approfondire il personaggio principale quindi siamo in disobbedienza siamo in disobbedienza civile e secondo me fanno irruzione nel tuo ufficio Jake fa tempo a telefonarti e avvertendoti che stanno entrando degli organi dei peacekeeper e poi metti giù e non riesci più a rintracciarlo cioè ok ti vedo ah ok ti avevo visto bloccato per un secondo ok tutto può succedere qua quindi Jake è imprigionato Jake è stato è sparito al momento non si sa esattamente dov'è va bene va bene io continuo la disobbedienza civile così vai aspetta quindi 2 e 3 e 4 vuol dire 4 e 3 7 e 2 e 9 quindi era babbo 15 più 9 24 24 e andiamo ancora pulisci i dati 4 2 3 5 5 ok 10 e 15 neanche un 1 stavolta siamo a 39 maledizione vabbè oh vabbè o le avvado la spacca abbiamo già sacrificato Jake per la causa sono indeciso se farla diventare una cosa violenta perché i terrestri non aprono attenzione che più dadi vuol dire anche più possibilità di uno lo so infatti non le fa allora sappi che ce la giochiamo così ok siccome purtroppo non abbiamo tantissimo tempo ancora e dobbiamo anche fare due chiacchiere sopra direi che la fidiamo all'ultimo tiro come va va e puoi scegliere di o la va o la spacca con sei dadi che altrimenti ti mettono in carcere e ti fottono oppure andare tranquillo andare con quattro dadi andiamo la va o la spacca anche perché nel caso io posso dare come dire la hope oppure ho ancora due segnalini io qua da poter mettere su treasonous è vero hai ancora possibilità però se fai 6-1 vabbè se faccio 6-1 allora è nel senso è chiaramente destino dai portiamola alla cattiveria 2-1 2-1 allora tu hai già ignorato un 1 prima o sbaglio sì l'ho ignorato 1 che però ho usato il segretario hai usato il segretario quindi adesso hai 2-1 e puoi ignorarli tutti e due mandando due gettoni su treasonous no perché perderei posso ignorarne uno per mettere un gettone su treasonous ok e posso far incarterare mia moglie aspetta oppure oppure puoi metterlo no perché se metti su beh metti su hop e perdi un punto se li metto su hop finisco esatto se li metto su hop finisco tutto sì e li tengo questi punti giusto ma quanto vuoi arrivare dobbiamo chiudere la sessione andiamo al finale no no il punto è li tengo questi punti se li metto su hop se no non li andiamo a finire li tieni questi punti se li metti su hop ora li mettiamo su hop e quindi ho su hop 5, 10, 15, 21 e ce la faccio senza nessun problema perché sono a 60 beh aspetta però li devi mettere su hop tutti quei 60 sarebbero a rischio se continuassimo ma invece andiamo al finale esatto purtroppo abbiamo poco tempo però vi abbiamo fatto vedere aspetta che faccio vedere la scheda ok questa è la scheda finale con i vari movimenti tra l'altro forse non ho si hai portato avanti tu i timeline abbiamo fatto vedere la costruzione del personaggio come si fa le tipi di scena in pratica si va avanti così e fino al finale cioè o 5 più 3 o 9 timeline e poi a seconda di quanti punti si è raggiunto sulle agenda in pratica se ne hai se sei stato arrestato sono cazzi tuoi ok se 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 e nari tu il finale della cosa se invece ne hai tre agende a più di 80 allora sei dichiarato un eroe non c'è problema i tuoi gesti verranno ricordati nei secoli dei secoli eh se sei tra 40 e 80 vuol dire che hai fatto cose però la descrizione è in mano a noi i parametri da tenere in mente sono che ehm per me che sono il governatore eh le tue gesti avranno effetti a lungo termine sia quelle tue che quelle dei 39 dark action ehm a seconda di dove hai ottenuto più risultati per quanto riguarda invece il tuo destino lo descrivi tu a seconda sempre tenendo conto dei risultati ottenuti e dei circoletti dove li hai mandati io descrivo la colonia allora eh dopo la prova di forza che avete fatto con la terra eh nonostante sia tu che i tuoi eh alleati diciamo che il 39 dark che il partito dei lavoratori siate stati malvisti dalla terra ancora per un po' sicuramente la colonia ha ottenuto più libertà e indipendenza di quanta ne aveva prima sia all'interno dove eh personaggi come il sindaco e altri mandati dalla terra hanno fatto un passo indietro ed è stata data più eh importanza ai marziani per i marziani e d'altra parte avete anche ottenuto di essere considerati dai terrestri comunque una identità che ha valore e potere la fine di che Lane Novak qual è? la fine di Lane Novak è che quest'ultima battaglia gli ha perso cioè gli è costata un sacco perché ha messo ha messo in pericolo se stesso e le persone intorno a lui quindi fondamentalmente rimane si ritira dalla politica molto stanco cioè si ritira molto stancato dalla politica e rimane un attivista inteso come rimane un po' una spina nel fianco dei potenti partecipando attivamente come figura pubblica alle varie proteste che vengono fatte muove le sue conoscenze ma non è più lui che le promuove e le fa partire ok mi piace bene direi di passare subito al parliamo di in cui dedichiamo 5-10 minuti al gioco inserendo i nostri pensieri grazie di averci guardato fino a questo momento scusate per la celerità però magari a quelli che ci dicono che andiamo sempre lunghi farà senz'altro piacere salute e andiamo grazie a Nicola e ci vediamo ad maiora ciao